Una nota di demerito sul registro, la richiesta di spiegazioni, il pugno in faccia al professore. Ennesima aggressione ai danni del personale scolastico. È accaduto a Gela, dove un 37enne è evaso dagli arresti domiciliari per picchiare l'insegnante di suo figlio, Reo, di averlo rimproverato in classe perché disturbava. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo da parte della polizia. L'episodio, avvenuto in un istituto superiore della città, ha per protagonista intanto lo studente che aveva contestato il professore perché gli aveva messo una nota sul registro per il suo comportamento. Ne aveva pretesso subito l'annullamento e al no dell'insegnante, dopo qualche ora, nell'istituto si è presentato il nonno dello studente che chiedeva di parlare con il prof. Mentre l'insegnante dava spiegazioni su quanto accaduto, è stato colpito alle spalle dal padre del ragazzo. L'uomo, che è stato subito identificato, è stato poi arrestato dalla polizia del locale commissariato per evasione dagli arresti domiciliari e condotto nelle carcere di Gela.